Ho fatto il tampone, sono risultato positivo, ho il coronavirus, ho avuto la febbre alta, 39, per tre giorni, stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola, però mi sento bene. Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute a contatto con me questi giorni, in tribunale, i giornalisti, persone esterne, anche persone che devono sapere che quindi sono risultato positivo e che non posso avvertire in modo che anche loro possano fare il tampone e possano evitare altri contagi. Come da prescrizione farò i 10 giorni di quarantena, li sto facendo già da ieri e quindi finirò settimana prossima, rifarò il tampone e ricomincerò da settimana all'altra, però non starò zitto, parlerò. Grazie.